3 a 1 del Benfica se non lo cacciano ma quando qua lo cacciano ma che cosa ha fatto? si ma che palla gli ha dato Gio Mario palla a tutti ooooooh in po secondi li hanno segna attenzione danger 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 go del Benfica e ha fatto un colpo di tacco e ha fatto un colpo di tacco questo magic moment 3 a 1 del Benfica se non lo cacciano gol di tacco ma pure ma era da cacciarlo l'anno scorso era da cacciarlo dopo la sconfitta col Maccabi secondo me era da non richiamarlo posso dire che era da non richiamarlo dopo la donna riuscita col Villareal possiamo andare a casa è finito un gol di tacco tra l'altro ci stanno ridicolizzando purtroppo letteralmente ridicolizzando non esiste avere un approccio così in Europa non esiste gestire una partita in questo modo se tu non sei pronto devi stare a casa non andare a fare queste figure in giro per l'Europa mi dispiace ma non condivido assolutamente io continuo a ripetere che questo allenatore fa giullo perché questo è un allenatore fa giullo lui in Europa vi lamentate tanto di Conte ma lui non vincerà mai avrà fatto due finali ma lui non le vincerà mai dai gol del Benfica 3 a 1 che gol ragazzi che gol di tacco 3 a 1 ogni attacco è un pericolo ragazzi 3 a 1 mazza che brutto questo gol fantastico ragazzi gol fantastico ma lì la fa Silva ancora decisivo Joe Mario ma dovevamo fare una grande partita la partita come all'andata la stiamo facendo la stiamo facendo quel caldo in merda come loro è un cattro risultato potete dirmi un cazzo quel caldo in merda non ma lì non ma lì non ma la védo voltara la mi transition la la mi bear il dote or robire non ma lì non ma c'est un degri non ma la les gars notre niveau en Europe il est trop il est abyssal non ma lì non ma la c'è secolo mais la c'è pas normal non ma la c'è pas normal non ma lì non ma gli non la les gars vieniassemble cheated moi je ne posso paz je peux paz les fr Writs vous me demandez di continuare a le fare io ho come la freta sulla non non non